A due giorni dalla sfida contro l'Azerbaijan, la nazionale di Antonio Conte è tornata ad allenarsi questa mattina presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista della sfida di venerdì sera valida per la seconda giornata di qualificazione ad Euro 2016. Dopo la doppia seduta di allenamento di ieri, Antonio Conte è impegnato la squadra stamane ancora sulla parte tecnico-tattica, prima di testare poi il possibile 11 che scenderà in campo venerdì sera a Palermo. Lavoro differenziato sul campo per Marco Verratti alle prese con una forte contusione alla caviglia destra, le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore. Ha salutato invece la comitiva azzurra Daniele Rugani, chiamato a sostituire in extremis l'infortunato Romagnoli in Under 21 per l'andata del decisivo spareggio europeo contro la Slovacchia. È stata un'esperienza bellissima, è stato un onore per me essere qua, però adesso è arrivata questa chiamata dell'Under 21 e io la prendo con la massima serietà e con la massima voglia perché mi vado a giocare qualcosa di importantissimo per il mio futuro e per il futuro di tutti noi dell'Under, perché giochiamo l'ingresso agli europei e se guardiamo anche più avanti magari un possibile ingresso alle Olimpiadi, quindi vado con la massima voglia per cercare di far bene. La giornata degli azzurri è stata poi caratterizzata dalla presenza in conferenza stampa della nuova coppia gol Immobile-Zazza, due talenti che già contro Olanda e Norvegia hanno mostrato di che pasta sono fatti. Sono stato fortunato comunque ad aver trovato un compagno di rebarto come lui che mi ha aiutato molto e poi anche una questione di feeling, tra virgolette, poi ci siamo trovati bene fin da subito, perciò l'obiettivo, come ho detto anche in altre occasioni, è quello di continuare così. Un feeling immediato, quello nato tra i due atacanti all'interno delle mura di Coverciano è favorito dalla coesione del gruppo di Mr. Conte come sottolineato dallo stesso immobile. Adesso vedo un gruppo unito, una squadra che viaggia all'unisono per un unico obiettivo quello che è di portare questa maglia e di indossarla con rispetto, con orgoglio e quindi non ho trovato 11 giocatori e poi gli altri, quindi il mister questo ci ha chiesto sin dall'inizio e quello che mi aspettavo conoscendo già Conte. Nel pomeriggio poi gli azzurri non sono scesi in campo per studiare attraverso una seduta video gli avversari che si ritroveranno di fronte venerdì sera. Domani poi giornata di vigilia è in programma un test a porte chiuse contro l'Under 18 prima della partenza per Palermo.